Malik oppure la protagonista anche della Via Reggio Cup. L'attaccante nigeriano del Brindisi, autore fino a questo momento di tre reti nel torneo giovanile, sta facendo volare la rappresentativa di Serie D attualmente approdata ai quarti di finale. Giovedì incontrerà il Torino. Sì i tifosi sono felici da una parte per la vetrina del loro gioiellino, dall'altra sono rammaricati dal fatto che Malik non potrà essere a disposizione di Danucci sabato prossimo per il derby con il Fasano, anticipo serale della ventinovesima giornata di Serie D. Il Brindisi infatti non ha voluto chiedere ulteriori rinvii come avrebbe potuto da regolamento. Si giocherà sabato alle 20.30. L'assenza di Opola classe 2004 porterà quasi sicuramente Danucci a schierare nuovamente in difesa Esposito. La prevendita dei biglietti per il match con gli uomini di Tisci va a gonfie vele. Le tre vittorie consecutive con Afragolese, Matera e Barletta hanno riacceso l'entusiasmo. In riva l'Adriatico si continua a credere nella possibilità di centrare il primato con la consapevolezza però di dover vincere tutte le gare rimaste. Opola o no, insomma, i biancozzurri dovranno provare a conquistare il bottino pieno con il Fasano con l'orecchio appuntato soprattutto a quanto accadrà alla Cavese che sarà impegnata dal delicato match con il Gravina. In attesa di rivedere il gioiellino ligeriano, i tifosi spingeranno dagli spalti Danna e compagni a superare l'ennesimo ostacolo che li separa dalla vetta. Grazie. 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 Grazie.